Pronto? Sei lì? Oh, ciao Alessandro! Sono io, Babbo Natale! Sono così felice di parlare con te! In questo momento i miei elfi si stanno divertendo a cercare uova e dolci nascosti dal nostro amico coniglio pasquale. Ho letto nel tuo grande libro che il tuo dolce preferito è... Le caramelle senza zuccheri. I miei elfi ne vanno ghiotti. Sai cosa amano fare? Scherzetti divertenti di Pasqua! Alessandro! Sai perché non si dovrebbe mai dire una barzelletta mentre si tiene in mano un uovo di Pasqua? No? Perché ridendo si potrebbe rompere! Buona Pasqua! Buona giornata!